E' tutto pronto? Buongiorno amici per una nuova puntata di Safe Drive, un'ora lunghissima da passare assieme parlando di motori naturalmente, parleremo di novità di prodotto, di tecnologia e di attualità, tanta attualità attraverso i nostri servizi ma anche agli ospiti che saranno tanti nei nostri studi. Non perdete dunque una puntata interessantissima, però prima 30 secondi dedicati agli amici di Diavolina, poi in studio parleremo di Citroen C5X. Ed eccola come vi avevo anticipato, ci ha aggiunto in studio la protagonista, la nuova Citroen C5X, però ci hanno raggiunto anche i nostri ospiti, Elena Fumagalli, responsabile della comunicazione di Citroen Italia. Grazie Elena di essere con noi. Ma grazie a voi e buonasera, buonasera a tutti. E Paolo Artemi, l'avrete già riconosciuto, vicepresidente dell'UIG, dell'Unione Italiana Giornalisti dell'Automobile e contribuisce anche e scrive anche per Style, il Corriere della Sera. Sì, grazie, grazie dell'invito, buonasera Elena. Buonasera Paolo. E che bella macchina che hai portato. Grazie. Grandissima. Bella macchina, belle novità che arrivano dal mondo Citroen e importanti, non solo belle. Visto che vogliamo iniziare in bellezza, parliamo un po' di risultati di questo, di come è iniziato l'anno. Non ti voglio chiedere dei dati perché so che cambiano repentinamente, quindi magari è difficile sbilanciarsi, ma il trend è positivo in fatto di vendite per Citroen? Assolutamente sì, il 2022 è iniziato molto bene per Citroen in Italia, con un trend in crescita sia in termini di volumi che soprattutto di quota. E questo sicuramente è il risultato di un rinnovamento nella nostra gamma che appunto ora offre diversi modelli adatti dai 14 anni fino ai professionisti del trasporto. Sicuramente è il risultato anche di una strategia che è sempre più vicina al cliente, come recita la nostra firma di marca, quindi Inspired by You. Quindi vicino alle persone per cercare di offrire la migliore soluzione di mobilità in base alle esigenze di trasporto di ognuno. Adesso dico, toccando ferro, ma le cose dovrebbero andare meglio anche visto le novità che introdurrete sul mercato a breve. Sicuramente la C5X, ma non solo. Ma è proprio così, forti di questo risultato, forti di questo inizio d'anno. Molto positivo, ora siamo fiduciosi e aspettiamo appunto il lancio di queste novità che ci attendono a brevissimo, a partire da nuova Citroen C5X e poi a seguire appunto il nostro nuovo SUV C5 Aircross. Quindi davvero tante le novità che a brevissimo si troveranno nelle concessionarie italiane. Paolo, il mercato dell'auto si sta così rinvigorendo, ci siamo lasciati alle spalle certe difficoltà dovute alla recambistica, ai famosi conduttori oppure no? Ma il mercato purtroppo dopo la pandemia ha avuto un'altra brutta visita, adesso ci manca soltanto gli alieni e qualcos'altro e poi vedremo cosa succederà. Abbiamo la guerra in Ucraina e questo sta modificando un pochettino quelle che sono le aspettative dei consumatori. Vedo che in tutta Europa le aspettative dei consumatori stanno leggermente calando. Naturalmente cosa succede? Succede che chi ha dei prodotti interessanti, che hanno quel famoso rapporto qualità-prezzo molto elevato, corretto, si difendono un po' meglio rispetto ad altri prodotti che sono meno appetibili. Nel caso di Citroën, Citroën ha rinnovato la gamma, non sono soltanto le macchine che stanno arrivando o che arriveranno. No, Citroën ha una gamma molto fresca, ha una gamma con prodotti interessanti, ha una gamma che veramente ogni pezzo di Citroën, forse anche per merito di una donna che ha guidato Citroën negli anni scorsi, ha questa capacità di unire l'utile al dilettevole. E questa formula così semplice attrae le famiglie e attrae il mondo del lavoro. Probabilmente non farà i numeri che porta a casa C3 naturalmente per quello che riguarda sul mercato, però è importantissima Valetta come un ritorno, e questa è una domanda, sembrava una formazione, ma è una domanda, Valetta come un ritorno di Citroën alla grande per quello che riguarda anche le berline di un certo peso. Possiamo definirla così questa vettura? Guarda, hai detto bene, si tratta di un grande ritorno di Citroën in un segmento, peraltro dove Paolo citava le aspettative dei clienti, le aspettative dei clienti che sono molto esigenti in questo segmento, in un segmento D, perché appunto parliamo di una vettura con cui Citroën ritorna in un segmento in cui ha una lunga storia e una grandissima competenza, con modelli che hanno segnato la storia dell'automotive e non solo, e oggi lo facciamo in chiave moderna con tutta quella che è l'audacia, l'innovazione che contraddistingue Citroën e soprattutto con tutta quella enorme attenzione al comfort per offrire ai clienti un'esperienza all'insegna del benessere. E C5X esprime questo ai massimi livelli, quindi interpreta perfettamente questa filosofia della marca, perché ha le ultime innovazioni tecnologiche, perché offre un comfort ai massimi livelli, dato da alcune tecnologie che appunto sono l'espressione più avanzata della marca. E come dicevi prima, appunto è una vettura che è estremamente elegante, perché si distingue per il suo stile unico, audace, dalle linee aerodinamiche, fluide, quindi molto eleganti, ma nello stesso tempo riesce a conciliare anche una funzionalità a bordo, quindi tanto spazio a bordo nel bagagliaio e alcuni aspetti, richiama alcuni aspetti che derivano dal mondo dei SUV, perché ha una distanza da terra importante, perché ha un assetto di guida rialzato che dà sicurezza, che dà appunto una sensazione di dominare la strada e poi una serie di tecnologie a bordo appunto che danno quel comfort assoluto a partire dai sedili, a partire dalle sospensioni. E poi te ne farò descrivere alcune di queste tecnologie, però ritorna, ritorna vuol dire che prima c'era e c'era e come? Facciamo un passo indietro, parliamo un pochino di storia, perché è bello, noi ci veramente perdiamo l'anima, il cuore, la passione verso le grandi novità, però è bellissima anche il passato, la storia dell'automobile, ogni tanto è bello parlarne e qui ne abbiamo l'occasione, quindi Citroën è stata nella storia protagonista con le proprie ammiraglie, che tra l'altro sono state anche vetture che hanno guidato, che comunque sono state anche affidate a grandi capi di Stato e via dicendo, che sono state sempre innovative e talvolta anche rivoluzionari, è vero Paolo? Insomma basta parlare dell'attaccazione, va, se vogliamo proprio parlare di qualcosa di rivoluzionario. Un elenco enorme, l'elenco è tanto e segue veramente questo più, questo secolo di sviluppo di questo marchio, questa capacità di un uomo che si chiamava André Citroën, detto bene, che aveva la, così, aveva la fantasia di fare delle cose fantastiche, però le cose fantastiche poi devono essere anche quelle con le ruote per terra in questo caso. Quindi possiamo parlare, col passare del tempo, di BX, possiamo parlare di CX, possiamo parlare di XM, di DS forse era un filino più grande, era un settore, un segmento di mercato, comunque DS, sensato, ma non lo dico mai perché DS ormai al suo marchio, ai suoi estimatori, cioè è un'isola all'interno, cioè è qualcosa, è un marchio di lusso, è un premium, comunque DS è la macchina che ha cambiato la macchina, con le sospensioni idropneumatico, questa è la sua forma, con le sospensioni idropneumatiche, con la sua forma incredibile, avanti 50 anni, ancora oggi è attualissima, cioè vedo nei serie televisivi che questi protagonisti che utilizzano una DS sembrano veramente delle persone che vivono l'automobile di oggi. Che tipo di sospensioni è dotata Citroen C5X? La nuova Citroen C5X, se parliamo di comfort, effettivamente rappresenta il meglio perché ha le sospensioni che abbiamo citato in Advanced Comfort, che sulla versione plug-in hybrid diventano addirittura attive, quindi significa che c'è un sistema elettronico che gestisce in maniera indipendente, in maniera continua, proprio ogni singolo sistema, gli ammortizzatori di ogni singola ruota, per adattarlo al meglio in base alle condizioni stradali, questo garantisce quell'effetto proprio di sorvolare la strada, tanto caro a Citroen, che qui poi viene amplificato a bordo appunto dal silenzio del viaggiare in modalità elettrica, nella versione plug-in hybrid, dai sedili Advanced Comfort, che sono un'altra innovazione Citroen di serie su tutta la gamma, quindi sia le versioni termiche che le versioni plug-in hybrid, chiaramente un isolamento acustico eccezionale, ma tutto questo concorre a dare quella sensazione di comfort, per cui si viaggia proprio in un ambiente ovattato dall'ambiente esterno, nella massima serenità, nel massimo benessere, e questa è proprio la filosofia che sta alla base di una vettura di questo genere, che può essere utilizzata sia per tutti i giorni, ma anche per le lunghe percorrenze, per ritrovare quello che è anche il piacere del viaggio. Questa è la versione plug-in? Questa è la versione plug-in hybrid, per cui come dicevi tu all'inizio è una vettura molto importante, perché appunto rientra nell'offensiva prodotto della marca, con cui la marca prosegue anche il suo processo di elettrificazione. Versione plug-in hybrid ricordiamo che appunto riesce a coniugare e abbinare un motore elettrico a un motore termico, per sfruttare il massimo della versatilità in elettrico per tutti i giorni, fino a 55 km di autonomia, e poi usare il termico o la funzione, appunto la modalità hybrid, per le lunghe percorrenze. E oltre alla versione plug-in hybrid, appunto, che offre comunque, oltre a questa sensazione di comfort, di silenziosità a bordo, la possibilità di accedere ai centri urbani, e chiaramente non dimentichiamo che offre anche un grande dinamismo, un grande brio, un grande spunto, perché ha una potenza accumulata fino a 225 cavalli, una coppia immediata di 360 Nm, quindi davvero riesce a coniugare tutte quelle che sono le diverse esigenze di utilizzo di una vettura di questo tipo. Si aggiungono poi le motorizzazioni termiche, benzina, quindi motori PureTech, che sono i motori appunto benzina di Citroën, che sono disponibili sia da 130 che da 180 cavalli, entrambi con cambio automatico e autorapporti. Paolo, ti voglio portare su un argomento che abbiamo già trattato qua con te, però voglio tornarci, voglio tornarci perché è importante. Plug-in hybrid, tecnologia, l'importante è sfruttarla bene, se no si perdono tutti i vantaggi. Beh, sì, penso che anche per quanto riguarda i venditori di Citroën, sono stati preparati proprio a affrontare questo argomento con quelli che potrebbero essere gli eventuali clienti di questo modello di automobile. Ogni automobile ha una sua destinazione precisa. La plug-in a chi serve? Diciamo a chi ha l'ansia dell'automobile elettrica, non vuole soffrire dello stress di rimanere fermo, però vuole anche avere un rapporto con la sua macchina che sia un rapporto green, un rapporto da transizione ecologica. Quindi ha bisogno di appuntarsi al petto una medaglietta che gli dice tu vai in giro con un'automobile che non inquina. Che cosa succede però? Che molti comprano un'automobile plug-in e si dimenticano di caricare l'automobile plug-in nella parte elettrica. Bene, per avere effettivamente un utilizzo corretto di un modello plug-in bisogna, quando arrivi in ufficio, avere la colonnina, l'attacchi, un paio d'ore e sei pieno, tu hai 50-60 km di elettrico, se vai fuori o se stai in città, poi soprattutto l'elettrico ti dà la possibilità di fare ancora più chilometri, perché se vai fuori automaticamente la macchina è pesante, tu chiedi anche delle prestazioni e quindi l'autonomia si abbassa. Poi arrivi a casa la sera, bastano 7 watt di potenza, te l'attacchi 4 ore mentre tu dormi, di notte la tua plug-in si ricarica e quindi tu avrai sempre questo approccio così, rispettoso dell'ambiente. Poi diventa una specie di psicosia, per lo meno per quello che mi riguarda, se veramente si fa una sfida contro se stessi, si guarda quanto energia si è risparmiata, quanta chilometri si è ancora, cioè una guida virtuosa in automatico poi viene spontanea adottata. Però chi la usa tutti i giorni e ha esigenze di utilizzarla in ambito urbano, tranquillamente la può guidare per tutto il tempo in elettrico, perché la sua autonomia fino a 55 km ti consente di utilizzarla mediamente per tutti i tragitti nel quotidiano in elettrico. Abbiamo sempre fatto l'esempio del classico tragitto casa lavoro, beh insomma casa lavoro con una macchina del genere piacerebbe anche a me poterlo fare, ad ogni modo, diesel niente? Diesel niente, benzina e plug-in hybrid e questo riflette perfettamente come dicevamo appunto l'offensiva della marca appunto che si sta dirigendo sempre di più a grandi passi in questo processo dell'elettrificazione, quindi offrendo vetture plug-in hybrid o 100% elettriche che è in grado di rispondere perfettamente a quelle che sono le esigenze dei clienti oggi. E Citroen risponde perfettamente anche a quelle che sono le idee, anche le ultime dichiarazioni che ha fatto Tavares, il vostro amministratore delegato, amministratore delegato del gruppo Stellantis, che ha già detto noi con i nostri marchi siamo pronti, siamo avanti, stiamo diversificando il tipo anche della produzione delle fabbriche, via dicendo sempre della direzione dell'elettrico, nel rispetto delle normative, però senza peli sulla lingua, mi rivolgo a Paolo così non ti metto in difficoltà, senza peli sulla lingua Tavares ha anche detto, d'accordo però bisogna che tutti facciano la loro parte, perché sennò le cose non possono andare avanti, perché le infrastrutture, d'accordo, ma infrastrutture è riduttivo, cioè bisogna proprio cambiare completamente, rivoluzionare le fonti energetiche, altrimenti è uno sforzo inutile, velleitario e deve essere globale, altrimenti facciamo lo sforzo solo in Europa e poi viene vanificato, perché poi altri costruttori, altri mercati agiscono diversamente. Io non so se riesco a interpretare il Tavares pensiero, però penso che Tavares sia un manager molto autorevole, ma anche uno di quelli che sa vedere che cosa succede. Il fenomeno della macchina elettrica, dell'automobile elettrica, è un fenomeno non inventato dagli ingegneri, non elaborato dagli scienziati, è una scelta che viene imposta dalla politica, e la politica cosa dice? Dice che bisogna stare attenti, bisogna evitare di inquinare il nostro pianeta, bisogna stare attenti a non usare più i combustibili fossili, tutte queste sono cose sacrosante, inutile. Il futuro sarà fatto di auto elettriche, elettrificate, a idrogeno, però in questo momento noi abbiamo delle tecnologie per le quali sono stati spesi centinaia e centinaia e centinaia di milioni di euro, miliardi di euro, in tutti questi anni, che sono ancora abbastanza valide. Se si va a guardare quanto è l'inquinamento dell'automobile in Europa, nel 2020, noi vediamo che è circa l'8% per quanto riguarda la nitride carbonica. mondiale, per cui non siamo quelli che inquiniamo. Quindi Tavares dice, sì, ok, l'auto elettrica è il futuro, ma noi abbiamo il presente, abbiamo le nostre fabbriche che sanno fabbricare degli eccellenti motori termici. Quindi accompagniamo questo futuro con un presente che utilizza le risorse che ha, che fa sinergie e che automaticamente fa una politica di buonsenso e il buonsenso a me piace. Certo. Torneremo su questi argomenti anche nel corso di questa trasmissione, nella terza parte. Io per il momento vi saluto, ringrazio Elena Fumagalli, responsabile della comunicazione di Sittore in Italia, per essere di nuovo con noi. Grazie a voi, grazie a voi. Prossimo appuntamento con la C5 Aircross. Ben volentieri, che peraltro, esatto, è la prossima novità. Che avrà sul mercato? Quando? A partire da luglio si potrà scoprire presso le concessionarie la nuova SUV, si trova in C5 Aircross. Invece la C5X, che forse non l'abbiamo detto, da maggio. Da maggio, quindi perfetto. Domani, in sostanza. Prestissimo, prestissimo. Grazie anche a Paolo Ortemi, grazie Paolo di essere con noi. Grazie Elena, che ci ha raccontato questa macchina in una maniera straordinaria. Sì, sa tutti particolari, sa tutto di tutto. E poi devo dire che questa macchina, francamente, è molto interessante, ha questa linea molto originale e tanta macchina. Auguri CX5. E grazie anche a voi, naturalmente, che ci avete seguiti, però mi raccomando, non finisce qui, una piccola pausa e poi la lunga carrellata dei servizi di nuovo in studio per un nuovo approfondimento. A dopo.